Buongiorno a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovo e velocissimo video siamo qui col drone libero per aiutarvi nella sfida che dice di piazzare prove incriminanti al gattogrill o laboratorio della latrina io vi farò vedere il gattogrill perché a mio parere sono quelle più facili da trovare e partiamo col drone libero perché vi faccio vedere meglio dove si trovano le tre cose diciamo con cui interagire allora ci troviamo a gattogrill sapete tutti dov'è tanto non vi serve farlo vedere dalla piantina ci richiamo verso la stazione di benzina diciamo delicatamente che col drone non sono molto buono ecco qui questa è la stazione di benzina vedete a fianco al cassonetto lì ci sono le pompe c'è questa specie di tocchetti di legno non so come volete chiamarli bisognerà interagire con essi ragazzi questo è il primo dei tre ce ne sono tre da interagire sembra una cassetta delle lettere più che altro e sì dovrebbe essere perché c'è la sfida di spaccare il cassetto delle lettere molto semplice che non serve magari un video e adesso andiamo a vedere le altre due dopodiché ci richiamo verso tutto l'altro complesso del gattogrill quindi dove ci sono i container e tutte le altre cose dove c'è questo adesivo noi giriamo dietro questo container ragazzi questa è la seconda location proprio a fianco al container con tutte le gomme eccola qui questa è l'altra location dove interagire con questo oggetto ragazzi la terza è sempre vicino ci dirigiamo verso l'ex capo di gattogrill che era lì giriamo a destra qui dove ci sono i cani alla pesca che però magari non in tutte le partite troverete e verso il camper che è l'unico presente a gattogrill al momento da quello che so dietro il camper ecco qui troveremo la roulotte più con camper troveremo il terzo ed ultimo oggetto con cui interagire ragazzi semplice 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 ragazzi la prima è questa qui cioè la terza è questa qui e vi faccio vedere le altre due anche dall'alto che è questa la vedete che appare e l'altra è dalla stazione in servizio qua sopra ok io ragazzoli spero che il video vi sia stato utile mi raccomando un bel like condividetelo con tutti iscrivetevi al canale e mi raccomando ci vediamo anche in live su twitch per i regali dallo shop codice creator lollo duke 97 ciao 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 ciao